Ciao Casa Felice! Ciao! Ciao! Stiamo lasciando via Paoloni. E dove stiamo andando? Stiamo andando a Viest, la sede del nono forum internazionale di violenza sociale e clinica. Andiamo per testare tutto il meglio, tutti i servizi, la cena, la spa, tutto quello che può essere della massima cura per noi, per voi, per il gruppo del nono forum. Il Viest si trova all'ingresso di... no, all'ingresso, all'uscita di Vicenza Est. Appena esci da Vicenza Est c'è il Viest, da cui il nome. Ah, è proprio attaccato. Ah, non ci avevo mai fatto caso, sai che Viest volesse dire Vicenza Est. Certo, veramente non ci avevi mai fatto caso. Ma sono proprio tordo. Comunque questo sopra il luogo che stiamo andando a fare sulla qualità dei servizi è qualcosa che non è mai stato fatto in mezzo al forum. E vorrei distancare un po' questa esperienza. Ci ha dato la possibilità di fare un tour esperienziale per vedere come voi starete, come noi staremo in quei giorni. E questa è la prima volta anche per me, dopo nove forum. Mi sembra qualcosa di molto importante per curare la... no, prima abbiamo detto del cibo. Però veramente credo che come ognuno di noi sta, durante l'esperienza dipende anche, non dipende, fa dipendere la capacità di accedere a un grande livello formativo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Dopo quei divani, girate a sinistra, a destra inizia un corridoio. La camera è piena a terra. Vi lascio se avete bisogno di istruzioni per il wifi. Ok. E l'orario di colazione domattina. Vi abbiamo già fermato un tavolo in ristorante per stasera. Quindi quando volete... E l'orario di colazione domattina. E l'orario di colazione domattina. Grazie Vi accomodo signori? Grazie Volentierissimo Tavolo numero 7 Voglio parlare un attimo di questo menù Beh, devo mangiare un altro pezzo di pane perché ho veramente un crollo verticale Stiamo guardando il menù, siamo qua a cena provando per voi e siamo veramente felici di vedere che tutte le possibilità sono onorate ovvero onivori, vegetariani, pescetariani, vegani e gluten free Un menù ricchissimo Che dire, buon appetito Stasera si mangia Stasera mi rifaccio veramente Tutta la fame che ho patito preparando il nono forum Tanto Insalata di piovra con pomodorini, selano e rapa e olivettaggiasche Burrata, fumicata, pomodoro, marinda e arici del cantabrico Primi piatti, calamarata no perché noi non mangiamo pasta però potremmo prendere, come secondo i piatti, un fish and chips di branzino e un burger vegetariano Buon appetito Buon appetito Buon appetito Questa roba qui è eccezionale Un corso per valorizzare questi gusti e sapori che sono subrimi. Io veramente, per imparare a riconoscere l'eccellenza della cucina e qua si sente. Calamarata con frutti di mare, cioè è una roba da morire. La pasta al dente, il pesce freschissimo. E il sapore è super. Penso che è una roba da andare fuori di testa. Cammarata con frutti di mare. 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 Cammarata con frutti di mare.